Partita iniziata per chi faccia il motivo? Inter. Oggi è martedì. Deve buttare fuori il Milan. Un e basta. Guarda il numero 15 come li purga. Guardalo. L'ho visto proprio. Guardalo, guardalo. Sì. Ho least la giardina. Wede il Giungo? È finito. È finito. È finito. Sette minuti! Sette minuti! Sette minuti! Sette minuti! Una scopata, una scopata! Sette, sette! Sette minuti! ... andiamo! andiamo! non ci credo non possiamo aver preso gol al primo gollo da calabria ma perché calabria marca diego raga perché un calabria marca diego raga perché calabria marca diego perché calabria marca diego che ha fatto le accoppiate topolino avevo detto madonna se segnasse edin 7 minuti vaffanculo cazzo vaffanculo il primo corner cazzo il primo corner c'è ma la presa di piede di piede a mezza altezza si è fatto come cazzo è possibile ma non devi lasciargli spazi a diego non ha nemmeno saltato ti dirò quella è la cosa grave guarda qua ma siamo sicuri che guarda qua madonna ma andate a fanculo dai cazzo una semifinale di cento si è fatto fregare calabria dormire così a dormire così ma poi che cazzo ci fa calabria marcare diego che è il doppio cazzo più tranquillo ma l'inter il peggio dei calci di voi Cosa ti ho detto, noi sui calci d'angolo, sui calci d'angolo, sempre ci fanno gol questi, sempre, iniziamo così. Sì, come inizia, come cazzo, oggi si fa con il tuo cuore, ma non stai scherzando. Si arrotava di banco, fa più croce. No! 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 Fortesemente dite il suo coro qui in chat, che io non lo posso dire, lo dite per me pure, ragazzi. Cianoglu, si allontana di Marco, il cross a cercare dentro la... Dzeko, 1-0 Inter. Bah, lo sapevo io. Lo sapevo io. Esulta la tribuna interista, gol dell'Inter, 1-0. Dzeko. Che... Social anoglu di merda. Social anoglu di merda, oh. Ma speriamo che te mette le corna, tu moglie, manette, mannaia. Il numero 9 dell'Inter all'ottavo minuto porta in vantaggio l'Inter. Goal... Goal... Dzeko! 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 un sinistro incredibile all'incrasso dei panni al foro in deriva 1-0 per loro bannierina alla destra di megnanna la tensione è pazzesca c'ho il dorso vediamo c'è la Novo su punto di battuta vediamo batte strettissimo no ha segnato l'Inter non ci credo ha segnato Gico di Marco si è cagato sotto eh andiamo un secondo guarda come si è cagato sotto di Marco è finita 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 torri torri non piangere torri non piangere non piangere torri non piangere no sta piangendo francesco torri Sta piangendo Francesco Toro Eeeeh, per la gente Guarda, guarda te Ah, fatto per tutti Tutti, tutto, fatto per te No, fatto per te Bello Oh 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 Cecco Mkhitaryan Cecco Mkhitaryan Cecco Mkhitaryan Zitti perché il demone le sa Il demone le sa Cecco Mkhitaryan Cecco Mkhitaryan Fatele fuori le formazioni Fatele fuori In te, in te Ale, 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 ale In te, in te Guarda, guarda Tutti sono volate Retro ancora Mkhitaryan Reazione formidabile 2-0 in te E questa volta fa la terra No, vabbè, vabbè Dai, vabbè Non siete in grado No, ma non è perdere i gol che stiamo prendendo Dai Non... Non... Non sono gol Non so, questo non è un gol Dai, non è un gol Cos'è sta roba? Cos'è tutto aperto? Cos'è sta cosa tutta aperta qua? Che? Che? Tonali, chi sta marcando? Mizzio? Vai No, dai, lasciamo perdere No, siamo noi che siamo inferiori Non è loro che sobra Sommo noi inferiori Guarda, Cecco GOOOOOOOL GOOOOOOOL VITARIAN 2-0 in 10 minuti Internazionale Male, male, male Andiamo Male, male, male Madonna, che buco centrale Che successe? Male, male, male C'è una voragine Male, male Guarda qua Guarda qua, guarda qua Non ci credo Che disastro, ragazzi Che figura di merda Si, possiamo parlare di figura di merda Ragazzi, non la sappiamo di fronte In questa squadra qua Sì, ma ci cagliamo addosso Dai, ma cazzo Ma come fa a esserci corridoio centrale così? Zio cane Non siamo capace Ma con il mio marco, eh Che la tentazione deve veramente Le parole Se deve stare a Germania Non puoi parlare Cioè, guarda che A parte Calabria è qui lentissimo Non riesce a che Guarda Guarda Tonali come passeggia Ma guarda Tonali come cazzo passeggia Oppure lui Però anche Chiere fermo, eh Non dirmelo Non dirmelo Lo vediamo in diretta Tira Dai, cazzo Vai, cazzo Cross basso il limite C'è la Nogru fa passare Due zero Gli hai Non ci posso credere, ragazzi Non ci posso credere Non ci posso credere Bravolo, lasciarvi il pallone a invitarlo in Italia. Questi ci fanno un culo così. Ci fanno un culo così questi. Ma come cazzo si fa? Ma come si fa? Come si fa? Come si fa? VIGI! VIGI! VIGI ITAIIAN! VIGI ITAIIAN! VIGI ITAIIAN! VIGI ITAIIAN! Guarda, 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 guarda! Ma non è possibile! Ma dormono! C'è, ma da sempre un campo o un casero? Cosa c'entra qua Leao per dire? C'è, non mi devo dire a prendere la scusa, Leao non c'era, Leao non c'era. Dormono! Sembra la supercoppa, sembra! Lemar e manda! Tenino, cheろう! Cos'è qualcosa è che fa dello schifo! Bello! Viguro! Corallo! Nooooooo! Noooo! Noohoh! si distruggiamo si distruggiamo fatta cagare si distruggiamo si distruggiamo merda chiudì 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 siamo messi malissimo siamo messi peggio di quanto immaginassi è solo Miki la mette l'armeno che corre come un treno Miki Tarjan e sono due in dieci minuti e così fa male dominio assoluto per noi assoluto ragazzi gli stiamo facendo male gli stiamo proprio schiaffeggiando attenzione ma incredibile 2-0 non ci credo ma non è possibile non è possibile dopo dieci minuti 2-0 ma non ci credo non è possibile abito vuoi anche fischiare bastone bastone ciao si è venuta casa mi chiamano la mano da giudirata è finita è finita è finita è finita è finita ciao 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 Grazie a tutti